Io sono Sascha Modolo e sono da Treviso, Iberi. Sono professionista dal 2010. Sarei un velocista ma me la cavo anche su percorsi medio-duri, qualche classica insomma qualche risultatino l'ho fatto. Tante cose principalmente nel senso di libertà che ti dà. Quei in gara invece è un mix di adrenalina, la gente che è vicino che ti urla, è quasi uno stadio naturale che ti dà quell'adrenalina che altre cose personalmente non ho trovato.